qua raga già il king mi ha messo a fare le zucchine e melanzane per stasera grigliate così senza olio niente stasera facciamo la carne con le verdure perché il king già si sta arrabbiando che sto mangiando e quindi che vuoi sto in vacanza non lo so ma non si riesce a giro cioè manca solo che mi ridici che vuoi diventare una smart come eri prima e quindi raga niente c'è già qua le melanzane poi le metto dentro una ciotola con poco poco olio, aglio e stasera abbiamo le bistecchine e le sta spiangendo perché ovviamente vuole mangiare ma c'ha le sue crocchette bistecchine in padella e verdure tu non c'hai il pane eh vabbè non c'è il pane quello dei panini io no e quindi è andata così mi sono beccata pure il cazziatone perché ho mangiato due tipi di pasta beh non ti piacciono le persone che si sfondano di cibo? no i McBank li facciamo? che schifo no perché dici così? non mi piace non mi piace raga a lui vabbè però ognuno può fare quello che gli pare a me non mi piace io riuscirei bene a fare i McBank dove mangio no nemmeno te non vorrebbe mai raga lui una cosa del genere e niente vabbè stasera stecchietto verdure e carne raga pomeriggio gelatino? no perché? ma che gelatino? c'è scritto a che parte? cioè non ho capito in modo cominci a mangiare bene? cioè stai scherzando o stai dicendo tu il serio? cioè raga vedete il king 11 non ti vuole bene cioè va bene dai va bene così stasera verdure e carne pomeriggio merenda? con yogurt? certo divorzio qui in Sardegna divorzio tu che stai facendo il cattivo con me che non devo mangiare no? quindi adesso arriverò a 100 kg quando torno a Roma? sì magari raga adesso se ammo sto qua a mangiare a 100 senti ma le persone non la diranno che ti servirà anche a te una dieta vabbè sì ma non è vero mica ceciccione come me tu ma ceciccione? io ce ti parlo a fare la guada che bravo che è diventato raga ma non manco mai visto che bravo che è diventato non risponde più male adoro oggi raga mi accorcio un pochino le unghie me le voglio fare tipo color carne semplici ma sai che hai capito una cosa? eccolo eccolo perché io sto divertito fa come mi pare la gente sta lì scrive mamma mia raga e niente vado a fare melanzane raga ciao a tutti e vabbè anche il king farà la dieta con me perché se non mangio io non mangi manco te ormai non ti ha messo vabbè no lui raga se lui dovrebbe perdere 10 kg con me se lui li perde raga non mi chiedete come fa ma lui c'è una forza di volontà su questa cosa tremenda comunque vabbè vado a fare melanzane ma ciao raga ciao Grazie.